E' partita nel modo migliore la campagna di vaccinazioni contro il Covid in provincia di Taranto, particolarmente positiva alla risposta da parte del personale sanitario, come rivela il direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto, Michele Conversano. Prosegue a gran ritmo anche l'effettuazione dei tamponi sulla cittadinanza e il sistema sanitario ionico sta reggendo l'urto. Questa percezione del rischio ci fa comprendere anche meglio l'opportunità che la vaccinazione ci dà. Abbiamo avuto una risposta eccezionale, eccezionale per ora, chiaramente limitata agli operatori sanitari, che normalmente sono anche più scettici, lo dobbiamo dire, anche per le altre vaccinazioni, ma che hanno chiesto in misura veramente quasi univoca, hanno espresso la loro adesione alla vaccinazione. Abbiamo coperture che superano il 90% in quasi tutti i plessi ospedalieri e gli operatori premono per avere più urgentemente possibile la vaccinazione. Abbiamo dato dimostrazione di grossa flessibilità organizzativa, abbiamo avuto un potenziamento. Io qui fuori da questa porta ci sono almeno 30-40 persone che prima non lavoravano nel Dipartimento di Prevenzione. Quindi un rafforzamento di quella che è stata la forza di lavoro, per quanto è stato possibile, perché non è più facile reperire medici o infermieri o assistenti sanitari. Quindi quello che l'AS poteva fare in termini di reclutamento di personale l'ha fatto e continua a farlo. E poi la flessibilità organizzativa. Noi abbiamo trasformato infermieri o assistenti sanitari che prima vaccinavano nel giro di qualche ora in esperti di tamponi.